Musica Arrestati per disastro ambientale i vertici dell'azienda produttrice di alluminio Fluorsid di Cagliari in un'operazione del Corpo Forestale della Sardegna. Sette i provvedimenti, cinque con la misura del carcere, due i domiciliari eseguiti su ordinanza del giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Cagliari, Maria Cristiana Ornano. Il provvedimento restrittivo del carcere riguarda il direttore dello stabilimento, il Fluorsid, il responsabile della sicurezza e ambiente dell'azienda, il responsabile della produzione, il Fluorsid, un dipendente e un ex dipendente della società Ineco. Arresti domiciliari invece per il titolare dell'Ineco e altre società di servizi operanti nello stabilimento Fluorsid, oltre a un funzionario tecnico dipendente. Disposto inoltre il sequestro preventivo di due aree di proprietà della stessa azienda, la prima nello stabilimento di Macchiareddu, della superficie di circa tre ettari di cumuli di materiale stoccati all'aperto, la seconda di cinque ettari in località Terrasili, nella periferia di Assemini. Questa per stoccaggio di materiali vari. L'attività investigativa è partita su segnalazione del servizio veterinario a seguito dei sintomi rilevati nei capiovini che pascolavano nella zona di Macchiareddu, una patologia che determina gravi danni all'apparato dentario e osseo e impedisce agli animali di alimentarsi. La raccolta di dati analitici ha permesso di accertare e documentare che dalle lavorazioni dello stabilimento della Fluorsid si sviluppano ingenti quantità di polveri sottili. Successivi approfondimenti hanno permesso di rilevare, sia sugli strati superficiali del suolo che sull'erba del pascolo, concentrazioni elevatissime di fluoro attraverso rilievi analitici eseguiti dal Dipartimento di Chimica dell'Università di Cagliari. Valori di inquinamento definiti sconcertanti nell'ordinanza. Sono sistematici leciti ambientali, quali occultamento, interramento di fanghi e acidi al suolo, fatti questi ampiamente documentati e accertati nel corso dell'indagine che consta di 168 pagine e che ha accertato l'esistenza di un'associazione criminale. L'Università di Sassari promuove la contaminazione di formazione d'impresa con il CILAB, prima edizione di un nuovo esperimento dell'Ufficio di Trasferimento Tecnologico dell'Ateneo, che ha come obiettivo quello di formare gruppi di studenti di tutti i corsi di laurea e di dottorato, con la partecipazione di soggetti esterni per un percorso di creazione d'impresa. Gli studenti, i neolareati e i dottori di ricerca potranno acquisire capacità progettuali, organizzative, imprenditoriali e comunicative, ma soprattutto portare avanti un vero progetto d'impresa che potrà arrivare a concretizzarsi dopo o durante il Contamination Lab. Il progetto è stato presentato presso il Centro di Trasferimento Tecnologico dell'Università, dal responsabile Francesco Meloni, dal delegato Gabriele Mulas, dal prorettore vicario Luca De Ida e dal dirigente Attilio Sequi. È un progetto nuovo che mette al centro gli studenti e che ha come obiettivo quello di recuperare la forza e l'energia propria degli studenti, di permettere di coltivare i sogni e le ambizioni imprenditoriali, le idee innovative che emergono dalla contaminazione di ambiti culturali differenti, confrontarsi con altri gruppi, confrontarsi con altre imprese e alla fine le idee migliori verranno premiate, parteciperanno a delle fasi successive all'interno della Star Cup Sardegna, del Premio Nazionale dell'Innovazione. Il bando è riservato ad un massimo di 80 partecipanti, fra studenti ammessi e soggetti esterni, per un massimo di due per gruppo. Per l'iscrizione si dovrà compilare un form disponibile sul sito cilabuniss.it e sulla prima selezione si proseguirà con la fase GIM, in cui nasceranno i gruppi, nel numero di 10. Sarà qui, attraverso la fase Challenge, che avverrà la vera contaminazione di sapere e ricerca, con la predisposizione di progetti imprenditoriali caratterizzati da innovazione e tecnologie avanzate. Alla fine, un panel di potenziali finanziatori sceglierà i cinque migliori progetti nati dal team. Le domande vanno formulate entro il 31 maggio. Sassari si prepara a riempirsi di colori, suoni, profumi e sapori di sardità. Domenica, 21 maggio, la cavalcata sarda invaderà le strade della città per la 68esima edizione. Questa mattina il sindaco Nicola San e l'assessore alla cultura Raffaella Sau hanno presentato in conferenza stampa la manifestazione, che ormai è a pieno titolo tra le più importanti mete nazionali delle feste identitarie, un'edizione che si apre con una novità. La sfilata sarà inaugurata da 10 amassoni in rappresentanza di altrettanti comuni dell'isola per dare un segno femminile a significare il ruolo che la donna nella società ha spiegato alla titolare della cultura. 3.000 figuranti, 75 gruppi folk, 24 dalla provincia di Sassari, 14 da quella di Oristano, 21 della provincia di Nuoro e 16 dalla provincia di Cagliari, 23 gruppi a cavallo e 276 cavalieri, 18 le copie a cavallo, 7 i gruppi delle pariglie e due bande musicali. Questi i numeri della festa della bellezza che il sindaco ha sottolineato essere la porta della stagione turistica non solo per Sassari ma per tutta l'isola. Dal momento in cui fu pensata già dalla loro azienda di soggiorno e turismo, di Sassari, come un'anticipazione dell'estate, un momento che richiama tanti turisti, che richiama anche l'organizzazione turistica isolana per quei momenti cosiddetti di spalla, che sono quelli prima dell'estate, della via dell'estate. Quest'anno naturalmente abbiamo già cominciato con gli altri eventi del maggio sassarese, molto partecipati e apprezzati, un grande successo, penso ai momenti aperti e a Sassari in fiore. Ma la cavalcata non è solo la sfilata di domenica mattina, molti sono infatti gli appuntamenti collaterali a partire dal venerdì sera in Piazza Fiume con Trimpano, la rassegna musica elettrica internazionale, sabato e domenica alle 20, la rassegna di canti e danze di tradizione condotta da Giuliano Marongiu, tante le mostre visitabili, oltre ai siti del circuito Tamus, aperti nel corso della manifestazione. Domenica prossima, in occasione della 68esima edizione della cavalcata sarda che prenderà il via alle 9 del mattino, il Polo Museale della Sardegna apre le porte dei luoghi della cultura ai visitatori e ai turisti che arriveranno in città per assistere al corteo dei costumi sardi provenienti da tutta l'isola. Per l'occasione il direttore del Polo Museale, Giovanna Damiani, grazie alla disponibilità di tutto il personale coinvolto, ha stabilito l'apertura dei musei per tutta la giornata del 21 maggio. Il Museo Nazionale Archeologico ed Etnografico Giovanni Antonio Sanna di Sassari accoglierà dunque il pubblico dalle 9 alle 20, mentre la Pinacoteca Nazionale di Sassari dalle 9 alle 18. Sarà l'occasione per vivere una giornata speciale all'insegna dell'arte e della cultura partecipata, un momento magico che vedrà protagonista i colori degli abiti e dei gioielli tradizionali dei paesi di tutta la Sardegna proiettati ripresi sulle opere sui prestigiosi dipinti delle collezioni presenti nei musei del Polo. La Polizia Locale di Sassari ha tenuto due ore di lezione rivolte a neomamme sulle norme di sicurezza nel trasporto dei bambini estese a donne in stato di gravidanza. Un'iniziativa che si è tenuta all'interno del consultorio dell'ASL nel complesso di Via Rizzeddu e che si colloca nell'ambito di un programma che il Corpo della Municipale sta dedicando all'educazione stradale. Nel corso del 2016 ci sono stati 96 i minori che hanno fatto ricorso al pronto soccorso, tra questi 22 con meno di 10 anni, lesioni e traumi causati da incidenti e scontri tra auto. Il totale registrato dalla Polizia Locale Sassarese comprende anche 172 minori coinvolti in sinistri sulle strade cittadine, ma fortunatamente rimasti incolumi. Nel 2017 i feriti con meno di 18 anni sono già 25. Numeri che giustificano gli incontri organizzati dalla Polizia Locale, sono infatti entrate in vigore lo scorso primo gennaio alcune nuove norme che dal primo luglio verranno applicate con grande rigore anche nelle strade cittadine, soprattutto sotto l'aspetto sanzionatorio. Sarà così verificato l'uso delle cinture di sicurezza e dei seggiolini per i bambini, che ora devono essere scelti in base all'altezza e non più come in passato in relazione al peso del piccolo passeggero. Sarà inoltre viettata l'avvenita dei rialzi senza schienale non più omologati, Toleranza zero anche per chi guida non utilizzando l'auricolare per le telefonate con il cellulare. È stato presentato sabato sera a Porto Torres al Circolo Culturale al Baccanale il libro dell'esordiente Marco Pireddu Le luci dei giganti. Il battesimo del volume è stato curato dalla FIDAPA, sezione di Porto Torres. Alla serata presentata dal giornalista Gianni Bazzoni sono intervenuti Don Michele Murgia che ha redato la prefazione del libro e il chitarista Marino De Rosas che ha regalato al pubblico la magia della sua musica. A cinque minuti dall'equinozio di primavera del 2016 si verificano misteriosi fenomeni. Un fascio di luce che scende dal cielo si abbatte sull'altare preistorico di Monte d'Accoddi e in altri due siti considerati sacri dagli antichi. Nasce così questa avventura fra le pieghe del nostro passato millenario. L'opera di Pireddu è una storia fantastica ma non troppo, ambientata nella nobile terra di Sardegna. Un racconto intenso e misterioso che vede coinvolti tre luoghi archeologici della nostra isola e i loro più antichi segreti. Attraverso un viaggio alla scoperta di inesplicabili avvenimenti con uno spiccato spirito di ricerca i protagonisti ci consentono di immedesimarci in loro e scoprire in modo avvincente il nostro passato. Si è interrotta sabato la striscia vincente del GSD Porto Torres. Di fronte alla Briantea Cantù, nella gara 1 e finale Scudetto, i turritani hanno ceduto le armi di misura 64-61 dopo una gara entusiasmante che ha mandato su di giri un palamuro agrimito. A fine gara i giocatori del GSD hanno tirato una riga sulla gara e già pensavano al ritorno che si giocherà a Cantù domenica prossima. Niente perduto, bisogna ritrovare solo la Verve che ha accompagnato un campionato stellare giocato con energia e concretezza ed ha portato alla striscia record di 18-0. Appuntamento con la storia quindi per riportare la serie a Porto Torres. Si può fare, forza il GSD, provaci ancora. Arrestati per disastro ambientale i vertici dell'azienda produttrice di alluminio Fluorsid di Cagliari in un'operazione del Corpo Forestale della Sardegna. Sette i provvedimenti, cinque con la misura del carcere e due i domiciliari eseguiti su ordinanza del giudice dell'indagine preliminare del Tribunale di Cagliari, Maria Cristiana Ornano. Il provvedimento restrittivo del carcere riguarda il direttore dello stabilimento Fluorsid, il responsabile della sicurezza e ambiente dell'azienda il responsabile della produzione Fluorsid, un dipendente e un ex dipendente della società Ineco. Arresti domiciliari invece per il titolare dell'Ineco e altre società di servizi operanti nello stabilimento Fluorsid oltre a un funzionario tecnico dipendente. Disposto inoltre il sequestro preventivo di due aree di proprietà della stessa azienda San Giovanni Nepomuceno Nato intorno al 1350 a Nepomuc in Bohemia studiò a Praga e poi a Padova dove divenne dottore in diritto canonico. Nel 1380 divenne sacerdote e in seguito nel 1389 fu nominato vicario generale dell'Arcidiocesi di Praga. Da vicario generale si scontrò duramente con Re Venceslao IV al quale contestava le intrusioni continue negli affari della Chiesa. Il 20 marzo 1393 per ordine di Re Venceslao IV fu arrestato, torturato con torce di pece ardente e gettato nella Moldava. Protettore dei sacerdoti, dei confessori e dei calunniati è patrono dei ponti, dei naviganti, degli zatterieri e dei mugnai. È invocato contro la maldicenza per non subire incidenti e per ottenere la pioggia.